Concetta? Concetta, sei in collegamento? Sei in collegamento? Concetta? Buonasera amici, buonasera dalla signora Carmela. Era tanto tempo che non ci vedevamo, ho già fatto una videochiamata con gli amici di Facebook e Instagram. Concetta, siamo in collegamento? Concetta, eh sì. Ha detto come mai stiamo in collegamento? Perché? Perché dovevo salutare gli amici. Hai capito? Che stavi facendo? Concetta? Stava lei da sola, sta da sola a casa. Eh, e perché piange? Stai da solo, che c'è da piangere? Eh, ti sei commossa? Perché non ci senti mai tanto tempo con gli amici? Ah, no, ha detto sì, gli amici, ha detto che lei sta vedendo la televisione, quando vede la tv si commuove. Ma perché si commuove? Perché vede le storie in televisione, le vip, e i vip che quando fanno un'intervista poi ci vengono, si commuovono, eh, si commuovono sempre i vip, hai ragione. Ma quale programma stavi vedendo? Amici? Ah, amici si commuovono, ah, parlano del passato, parlano della loro vita, dei problemi che hanno avuto e si commuovono. e allora fanno una cosa, viene tenata trasmissionata, viene registrata, viene, e come sai, c'è vero tu? Ah, verissima, eh, viene verissima. Ah, pure stanno chiedendo a verissima. Eh, vabbè, si stanno chiedendo pure a verissima. Eh, non da retto, perché piangono poi? Ah, raccontano le cose della loro vita, quando erano piccolini che hanno avuto, o bullismo, hanno avuto, eh, o body shamp, hanno avuto, eh, eh, sì, o body shamp, quando uno ti offende perché si chiatra, quelli o body shamp, eh, senti, eh, mi mette una cosa, mi mette, tu ne sai, ballando con le stelle, mi mette ballando con le stelle, che le belle, hai visto come sono belle quando ballano, e stelle, no? Sanno chiedendo pure a ballando con le stelle. Eh, sì, vabbè, io ho un taretto, concetto, ma comunque puoi smettere di piangere, perché tu un dia non stai annanzato le camere, stai a casa tua, quindi che chiami a fare? Sì, facendo un'intervista, dicendo che stai piangendo, se con posto tutto ti guardano, ti fanno un applauso, ma tu stai a casa tua, piangere, che piangere a fare? Sono lacrime persi. Eh, concetto, eh, veramente, stanno tante cose che puoi guardare, vi ridono un po' che non sa, un grande fratello pure piangono, no, no, la piangono, no, chi lo mi fanno piangere pure a me, quando vedo un grande fratello che piangono sempre? piangono assai, piangono. Va bene, allora facciamo così, gli va a mezzare la televisione, con c'è, perché poi dopo tu, sennò ti affligge, hai capito? Piensa alle cose più che ti fanno distrarre, piensa, rimane per la pensione, ah, pensa a quello, eh, quanto? Ah, hai detto che adesso prendo 4,50 di pensione, cazzo stai a piangere veramente, tu piangono che, vi pinta la televisione, non piangono che tieni questa pensione, come fai a campare congetto? Vabbè, non ti preoccupare, a congetto, ti devo tirare su, fa una cosa, stuta la televisione, spegnila, e accendi la radio, vieni che la radio canta una canzone, ti suona, e non capisci niente di più, perché quella tu, o forse perché tu ti ricordi, pure tu quando eri piccolino, hai avuto il tuo bullismo, non ti ricordi, non ti ricordi, o forse hai avuto un po' di sciamp, perché quella dei 180 kg, sicuramente ce l'hanno fatto un po' di sciamp, non ti ricordi, quando andava a scuola, sei stata beffeggiata, o no? Ah, lei non andava proprio a scuola, va boia, un darete, chiudiamo la conversazione, amici, scusate, io volevo ricominciare con qualcosa di divertente, che mi ha fatto scendere il cuore in te casetta, arrivederci a tutti, amici, alla prossima, senza piangere, mi raccomando.